Siamo qua da Zero Gravity, questa conferenza che, come si diceva questa sera, non è una conferenza, non è Zero Gravity, è un luogo, un tempo dove si stanno formando dei ragazzi per conquistare l'Italia e tutta l'Europa e io credo fermamente che noi, noi che siamo questa generazione possiamo fare la differenza. Sicuramente tanti diranno che siamo troppo giovani, tanti diranno che abbiamo tanti difetti, che abbiamo tante mancanze, ma Dio non guarda tutto questo, Dio guarda il cuore, quindi l'incoraggiamento che vi volevo dare è cercate Dio, cercate la presenza, state in intimità con Lui, perché Dio non cerca persone perfette, ma Dio perfeziona le persone che sceglie. Se non riesci a staccare i tuoi piedi da terra, non puoi pretendere di avverrare il cielo. Inizia una nuova epoca. Zero Gravity